Ciao ragazzi, oggi parliamo di ruote e lo facciamo con le C50 disc di Ursus, la casa vicentina di Rosà che produce ruote e componenti per biciclette dal 1967. Si tratta di un wheelset medio profilo molto versatile con canale interno da 17 mm e altezza di 50 mm. Il cerchio è realizzato al 100% in fibra di carbonio unidirezionale con 24 raggi Sapim leader sia all'anteriore che al posteriore. Sono ruote per copertoncino e tubeless ready e montano i nuovi mozzi in alluminio RD30 con flange per freno a disco totalmente medianitari. Realizzate in alluminio 70-75 e lavorate con macchinari a CNC con attacco center lock. Inoltre in fase di ordine è possibile anche sceglierle con dei cuscinetti Ceramic Speed. Il peso? 1730 grammi, 780 per l'anteriore e 950 per la ruota posteriore. Sono disponibili a un prezzo di 1180 euro ed è possibile acquistare anche le ruote singolarmente. Dettaglio da non sottovalutare perché potete così costruire il vostro wheelset un po' come volete scegliendolo dai modelli in gamma, ad esempio con un profilo più basso all'anteriore da 37 mm per esempio o più alto al posteriore da 67 mm. Come si comportano su strada? Noi le abbiamo provate sia in configurazione tubeless da 25 mm che con un copertoncino da 28 mm. Sono ruote adatte a chi fa molti chilometri in pianura ma la grande scorrevolezza le rende perfette anche per le brevi salite. Un cerchio in carbonio di grande qualità ma ad un prezzo ragionevole a patto di non ricercare per forza la leggerezza. La garanzia è di due anni e inoltre cosa importantissima strizzano l'occhio anche alla sicurezza. Le etichette di queste Ursus C50 disc infatti sono su base riflettente e garantiscono una perfetta visibilità sia di sera che in caso di maltempo. Non male come idea! Oh 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 Grazie.